Buon poveriggio da TripTV, siamo qui a raccontarvi cosa è successo in questo fine settimana dove si attendevano alcune risposte politiche dalla sinistra e dalla centrodestra mentre la prima ha comunque lanciato una candidatura del dottor Tarantino anche se, come si dice, sembra che ci sia anche la candidatura di Marco Manovelli poi nella destra invece c'è il mancato incontro, mancata cena, mancata situazione per quanto riguarda la Lega che dice che vuole sempre nominare qualcuno da proporre insieme a Grasso per capire chi è quello che prenderà più consensi, una lotta tra i due, una primaria e poi c'è invece i grillini che sembra che manchino candidati in quanto ce ne sono parecchi che sono esterni, sono fuori Girolami, Rolando La Rosa, Bagnano, Riccetti, Carlini, Lau sembrano in Mirico, Barbani, La Rosa e Trapanesi e quindi alla fine di quelli che sono stati eletti, occupati insieme al premio di maggioranza ecco che rimane ben poco anche perché sono una Riccetti per esempio con 245 preferenze fa da sola tutti quelli che sono rimasti parliamo di voti, l'unica che non si sa che cosa farà è la Trapanesi perché ancora non si sa e poi ci sono le deroghe che servirebbero come il pane a Dantò e poi ci dovrebbero essere anche Cardinale e Bertolini che ha 47 voti, Bertolini 43, Righetti 110 come vedete in tre non arrivano neanche al punteggio raggiunto la passata tornata politica dalla Alessandra Riccetti sembra che ci siano quasi obbligati a candidarsi gli assessori uscenti Perrone, Lecis e Manueda al quale servirebbe un'altra dedica e la Tuoro da qualche parte sembra che ci sia anche qualche altro inserimento della segreteria di Cozzolino e poi dal web ancora non è arrivato nulla questo è il discorso dei Grillini sul centrodestra manca l'eventuale alter ego a Massimiliano Grasso intanto il tempo passa si era detto entro novembre adesso invece siamo già a dicembre inoltrato e per la sinistra c'è questo discorso di Tarantino che è arrivato allora nei giorni scorsi e poi da non sottovalutare il nome di Manovelli perché già è stato committente e responsabile dell'ultima elezione molto vicino a Valentino Carluccio e quindi che con la sua girata favorì anche l'avvento del nuovo segretario Bertoli comunque tutte queste sono sembra che sotto l'albero troveremo tutte queste cose dipanate staremo a vedere di certo è che per quanto riguarda il Natale prossimo vicino ci sono due situazioni la prima è l'assoluta barbaria delle festività natalizie è svolta da questa giunta perché ora sembra che qualcosina ci siano messe come luminarie come abbellimento della città se non vogliamo mettere proprio luminarie dal 14 dicembre in poi ci aspettiamo il giorno di Santa Lucia per capire se ci sarà uno straccio di qualche cosa che ricordi il Natale in questa città sono cinque anni che ce l'hanno mai già fatto scordare tranne le solite tra virgolette pagliacciate di Dantoga adesso è molto contento e felice della casetta di Babbo Ratale in altre parti cittadini molto comuni molto più piccoli duemila abitanti Golfo Aranci c'ha l'alnullo con la filatelica di Babbo Ratale c'ha proprio il villaggio fa solo dieci anni che ce l'ha noi andiamo avanti con queste grandi cose contento che circa 6.000 persone dice sul suo sito hanno partecipato a questa cosa e elogia i volontari va bene tutto ma del Natale qui che c'è a Civitavecchia perché se parliamo di Babbo Natale a Tarquinia gli hanno messo a Santa Maria e a Santa Maria gli hanno messo un castello parliamo di presepe viventi una volta c'era adesso c'è più neanche quello che cosa c'è rimasto se c'è rimasto qualche cosa io dico interrogatevi guardatevi in giro intorno sui siti sui facebook sui vari social che cosa c'è in giro per il mondo vicino e lontano e datevi un'occhiata a Civitavecchia e guardate all'imbrunire sia le vie centrali che qualche sparso di lustrino e paglietti commercianti se lo sono messo da soli e guardate entrando a Civitavecchia con l'auto da nord a sud da est a oest che cosa c'è ecco fatevi questa bella riflessione e capite bene di che cosa stiamo parlando cioè del niente poi per quanto riguarda il niente anche a livello politico l'assessore Ceccarelli l'assessore ha lavori pubblici stiamo rasentando io credo una storia infinita allora mercato ora ci sono i soldi cioè c'è il mutuo manca la gara ma non se ne parla ma dovremmo ricambiare da qui a gennaio ma chi è sto mutuo lo sapevate intanto fate tutto le gare poi chi vince aspetta i soldi no aspettiamo ma nel frattempo casca tutta la copertura del del mercato coperto quindi che cosa vogliamo dire due anni e mezzo l'assessore Ceccarelli non ha fatto niente il nulla The Orts a breve arriveranno le precisazioni sul regolamento lo stesso Ceccarelli dice però a gennaio con l'anno nuovo vedremo di fare un nuovo regolamento ma insomma fate pace col cervello perché niente è difficile eseguirti niente è difficile e Ceccarelli mettete i cartelli per fare le righe la segnaletica orizzontale a terra tre giorni prima sette giorni prima noi vi diciamo che è una cosa assurda sotto Natale adesso le righe non vengono fatte ma nessuno leva i cartelli che succede cioè non è una metropoli questa è una città con cinque vie centrali e dodici periferiche in periferia succede di tutto riguardando la viabilità ci sono una marea di cose che invece di mettere l'autovelox e le cosine che segnalano dentro la città per capire chi ha parcheggiato male ma non essendoci parcheggi diventa difficile pure andare a parcheggiare ammettete a Aurelia qualcosa che controlli e a quanta velocità sfrecciano i tir che entrano e escono dal porto finché non ci sarà qualche incidente grave allora dopo non dire che nessuno vi ha avvisato vado un controllo lì scoppio gli pneumatici scoppio le gomme viene tutto abbandonato per terra sembra che sia terra di nessuno beh è ancora fa parte del comune di Civitavecchia è una statale interna che fa parte del comune di Civitavecchia che deve dovrebbe provvedere alla sua cura invece no tutto così abbandonato così come sono abbandonate sono abbandonati i marciapiedi siamo pieni di foglie abbiamo sette arberi spelacchi e siamo più invasi da foglie perché nessuno le tira su questa è la situazione allora non è tanto perché paghiamo troppe tasse ma perché le paghiamo per niente perché non funziona niente due gocce d'acqua e c'è la turbida e allora adesso che arriverà la bolletta della cece faremo due risate con le bollette dell'acqua per chi non ce l'ha mai avuta e tutte queste cose qui c'è tutta una situazione che non va che però non va perché nessuno se ne mette in moto per farla andare allora non mi dite che con 380 persone da HCS non si possa fare un piano operativo vero per rendere pulita la città no andiamo tutti così avanti come meglio succede andiamo a Santa Maria dove sembra molto incerto il futuro del bambino Gesù adesso sono aperte solamente prestazioni diagnostiche e specialistiche ai soli pazienti più piccoli sembra che tutto questo poi venga spostato verso Fiumicino e anche qui c'è la troica Sant'Aella c'è il sindaco Tidei che non credo a buon cuore ma comunque accetta questa specie di scippo a a Fiumicino c'è l'amministrazione totalmente rossa e quindi pidiana e alla regione c'è Zingaretti un due tre vedete come si fa presto a spostare una struttura da una parte a un'altra creando ovviamente disagi dove si toglie perché il bambino di Gesù a Sant'Amanidella è un'istituzione è una cosa che comunque funziona dà comunque del lavoro a qualcuno è chiaro che lo dà pure a Fiumicino ma noi parliamo del nostro territorio quindi allora perché succede questo perché non è che si chiude perché non c'ha posti si apre da un'altra parte e perché questo avviene nel silenzio quasi totale nessuno dice nulla e nessuno fa quindi queste situazioni poi l'ultima cosa era ovviamente nell'aria ma è ovvio che quando si perde si perde le spinte più volte le dimissioni del ormai ex tecnico Andrea Rocchetti del Civitavecchia adesso invece sono state accettate e partirà già è partito oggi pomeriggio Marco Scorsini sulla panchina del Civitavecchia quindi dopo una riunione la società ha deciso di rimuovere dall'incarico l'allenatore della prima squadra Andrea Rocchetti affidato al tecnico Marco Scorsini che ha già condotto il primo allenamento è stato ex del Montefiescone Rolciglioni Crecas e città di Valombara quindi questo è il suo palmarès la situazione è disperata e dir poco per quanto riguarda il calcio e quindi ci proverà questo Scorsini vedremo se poi adesso con l'arrivo delle nuove l'apertura delle nuove liste per poter trasferire qualche giocatore arriverà pure qualche regalo per il nuovo tecnico Neuro Azzurro con questo è tutto appuntamento a domani